Nicola Baiocchi, consigliere regionale, si è battuto tantissimo per la riapertura del reparto di pediatria dell'ospedale di Pesaro e il risultato sembra che sia stato raggiunto. Sì, mi sono battuto tantissimo come anche altri consiglieri, ma è una battaglia personale per la mia città perché penso che sia veramente importante e assolutamente fondamentale per noi avere un punto nascita, un reparto materno-infantile su Pesaro. Non è stato facile, non è stato semplice, ancora non siamo arrivati ai risultati, ma pensiamo che per i primi di dicembre, così come la direzione ci ha comunicato, si potrà finalmente riaprire un reparto importantissimo per la nostra città. Un impegno importante, c'è stato un piccolo slittamento rispetto al termine che si era previsto legato anche alle assunzioni, quindi a tutta la parte amministrativa, però questo dimostra quando è la volontà della regione di ripristinare un reparto che come ben sappiamo è stato chiuso per l'emergenza Covid.